lucia annibali è il nuovo difensore civico della toscana eletta alla quarta votazione ha ottenuto 23 voti contro i due di antonia fiordelisi e un voto disperso europa premio david sassoli a palazzo del pegaso i riconoscimenti per le migliori tesi di laurea la cerimonia a un anno dalla scomparsa dell'ex presidente del parlamento europeo lucia annibali è il nuovo difensore civico della toscana eletta alla quarta votazione ha ottenuto 23 voti contro i due di antonia fiordelisi e un voto disperso all'elezione di annibali si è giunti dopo un lungo dibattito sulla rosa dei nomi e sulla conseguente istruttoria per valutare le potenziali incompatibilità dei candidati scelti tra autocandidature e designazioni dei gruppi politici la rosa dei nomi una volta ritirata la candidatura di elisabetta meucci risultava composta da lucia annibali presentata da italia viva giuseppe caglia dal gruppo misto toscana domani e antonia fiordelisi dal movimento 5 stelle in apertura dei lavori di aula la presidente del gruppo misto elisa tozzi ha ritirato la propria indicazione e quindi la rosa è risultata composta da solo due nominativi a commentare l'elezione il presidente della regione toscana eugenio giani è una nomina di alto spessore e ottimo profilo io devo dire che l'ho condivisa con molta convinzione il difensore civico deve essere una persona super partes che riesce a essere il filtro fra le istanze dei cittadini e quello che sono gli apparati gli organi politici amministrativi della regione quindi una donna che avvocato ha vissuto sulla propria pelle questioni drammatiche come quello della violenza verso le donne ma che da questo ne ha tratto elemento di forza per esercitare il suo loro da parlamentare e oggi è la persona giusta per interpretare al meglio il difensore civico nella regione siamo all'inizio degli anni 70 che per prima fra le regioni neo elette a statuto ordinario si dette il regolamento e la figura del difensore civico consentitemi innanzitutto di fare un grande in bocca al lupo a lucia annibali le sue competenze la sua sensibilità la sua storia personale penso possano rappresentare il profilo giusto per dare risposte ai cittadini che segnaleranno disservizi rispetto a quelle che sono i servizi messi in campo dalla dalla regione il ruolo del difensore civico un ruolo molto importante perché davvero il luogo in cui le istanze dei cittadini trovano una risposta anche a disservizi che purtroppo possono accadere io penso che lucia annibali anche per la sua storia personale possa rappresentare la figura giusta e possa svolgere con serietà impegno e competenza questo ruolo così delicato il capogruppo del partito democratico vincenzo ceccarelli ha sottolineato l'importanza della scelta della difensore civico toscano ma intanto occorre dire che questa sera abbiamo dato alla toscana un difensore civico che ritengo sia una professionista molto adeguata che farà sicuramente bene una persona competente dal punto di vista giuridico perché è un avvocato ha fatto parte della commissione giustizia della camera è stata nominata dal presidente della repubblica cavaliere del punto del nostro paese ma anche una figura una donna che è l'emblema della difesa dei diritti civili del contrasto alla violenza visto quello che lei purtroppo ha dovuto subire quindi credo che sia una figura adeguata una proposta che legittimamente ha fatto la maggioranza e che a mio avviso meritava anche un consenso più vasto perché questo avrebbe corrisposto alla qualità della proposta che le rappresenta Per proporre Lucia Annibali è intervenuto Stefano Scaramelli di Italia Viva che partendo dal ruolo del difensore civico di difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i privati che gestiscono pubblici servizi si è soffermato sull'alto profilo della figura Sentiamo il suo commento Credo che sia fatto una cosa bella per la Toscana Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano a livello etico la sua storia lo dimostra la sua battaglia la sua elemento identitario come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani a lei un compito straordinario quello di essere il garante di tutti i toscani un impegno importante il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della regione toscana per me anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia ringrazio i colleghi del partito democratico che hanno accolto questa proposta abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna prima di tutto vogliamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita e credo che la Toscana oggi esca più forte ne escono più forti i diritti delle donne degli uomini dei ragazzi delle persone degli ultimi credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza la Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico e io personalmente come capogruppo di Tel Aviva di una forza politica che si è assunta questa onere di responsabilità credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio tenacia e anche a mio avviso lungimirazza io credo che sia doveroso non determinare il concetto di appartenenza ma il concetto di qualità delle persone se la minoranza presenterà un curriculum di alto profilo di alto valore noi non andremo via dall'aula ma staremo dentro e lo voteremo perché i garanti sono dei cittadini toscani e non è una questione di appartenenza è una questione di curriculum di merito io ho sempre rivendicato che la mia battaglia è una battaglia nel merito, nella competenza, nell'alto profilo della persona che abbiamo raggiunto e io credo che la Toscana debba abbracciare veramente con forza Lucia perché è una figura di uno spessore e di una carica umana straordinaria e credo che quando i cittadini toscani sapranno e la conosceranno ancora meglio potranno riconoscere queste doti per le quali io ho messo la mia firma, il mio impegno e ho garantito per i cittadini toscani Secondo Silviano Feri del Movimento 5 Stelle il ruolo imparziale di garanzia del difensore civico non si conforma con la legge sulle nomine della Toscana Noi abbiamo voluto dare un segnale cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica per questo abbiamo letto tutti i curricula arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto in effetti ha già un'esperienza dal 2014 è difensore civico della Basilicata la dottoressa Antonia Fiordelisi e adesso lo è in regime di prorogazio quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico Per Elena Meini della Lega la nomina del difensore civico è una scelta importante che deve essere condivisa Sì è una valutazione sicuramente negativa sul modus operandi che ha attuato la maggioranza nella nomina della figura apicale perché ricordiamo che il difensore civico è di garanzia per tutti i cittadini toscani senza colore politico, senza appartenenza politica che si rivolgono a una figura che dovrebbe essere di garanzia e che auspichiamo diventi di garanzia nel caso di sidi con le pubbliche amministrazioni o comunque con privati che però gestiscono attività di pubblica utilità Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale almeno quello che noi auspichiamo c'è stato un colpo da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo valutando i curriculum, valutando le esperienze su colui che, con lei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes anche se, purtroppo, il modo superante di questa maggioranza ci fa pensare il contrario Critica Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani sia sul metodo utilizzato dalla maggioranza consigliare ma anche per l'impressione che la nomina del difensore civico venisse calata sul piano politico Sicuramente una figura apicale, una figura di garanzia è stata messa sul banco per cercare di dare consistenza e tenuta a una maggioranza che in questa vicenda ha dimostrato sicuramente di sapersi ricompattare tutto questo però a scapito di quello che dovrebbe essere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione soprattutto nel momento in cui si parla di figure che dovrebbero caratterizzarsi per neutralità, imparzialità e quindi svolgere un ruolo di interesse a tutto campo quindi scevolo da qualsiasi, anche solo riferimento ad una storia politica questo è quello che avremmo auspicato e questo è quello che invece non è accaduto nel lungo dibattito in aula tra l'altro io ho sottolineato anche come abbiamo perso un'occasione anche per cercare di rivedere in qualche modo quali i legislatori, quella che è la stessa figura diciamo del difensore civico e della funzione che oggi dovrebbe svolgere appunto quelli che sono gli organi di garanzia della regione quindi non abbiamo neanche saputo arrivare a questa scadenza riorganizzando complessivamente quello che è un istituto fondamentale ecco perché di fatto noi non abbiamo partecipato con gli altri colleghi del centro-destra a questa elezione nulla diciamo eccependo sulla figura per carità della dottoressa Annibali con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia però di certo non si possono fare battaglie politiche e come dire barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque dei grossi motivi di crisi Posizione critica anche per Francesco Torcelli di Fratelli d'Italia La posizione è semplice abbiamo hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani ovvero il difensore civico la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni qualora ci siano controversie quindi la figura di massima garanzia per la città per la regione è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura sicuramente una pagina di politica che ha esposto la regione toscana alla berlina in tutta Italia la regione toscana per questa scelta per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza utilizzando il difensore civico è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali la Toscana è stata derisa da Bolzano a Canicattì e dispiace anche se all'opposizione far parte di questa pagina di storia io l'unica cosa che posso non conosco personalmente la dottoressa Annibali ma l'unica cosa che posso auspicare e che la dottoressa Annibali la prima cosa che faccia una volta eletta difensore civico della regione toscana prende le distanze dal partito che l'ha eletta perché sentirci dire oggi in aula che la maggioranza per nominare il difensore civico non vuole i voti dell'opposizione non è che non prova nemmeno a cercarli ma che proprio non li vuole perché se lo scelgono loro lo nominano loro e non hanno bisogno dei voti dell'opposizione è un insulto, è uno schiaffo a quei milioni di cittadini toscani che votano centrodestra stiamo parlando di un milione di persone che in Toscana votano centrodestra io mi auguro la dottoressa Annibali la prima cosa che fa proprio perché non la conosco ma mi parlano di lei come di una persona autorevole rispettabile con un grande curriculum alle spalle di sicura valenza e validità se è vero questo il primo atto che deve fare è prendere le distanze dal partito che l'ha nominata se farà questo avrà sicuramente un incremento di stima da parte mia soddisfazione da parte del presidente della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani la prima commissione prima che la elezione del difensore civico regionale venisse fatta dall'aula del consiglio ha avuto modo di acquisire tutta una serie di curriculum relative a candidature altrettanto spendibili ci sono state molte autocandidature da parte di persone che avevano i requisiti per poter ottenere questo incarico ma altresì sono state fatte designazioni da parte dei gruppi la prima commissione ha poi elaborato una rosa di nomi che sono stati poi presentati all'aula al momento della votazione un nome indicato dal gruppo misto dalla consigliera Tozzi un nome indicato dalla maggioranza quindi da Italia Vive dal Partito Democratico e un nome che invece è stata espressione del Movimento 5 Stelle che è l'attuale difensore civico della regione basilicata ritirata la candidatura proposta dalla consigliera Tozzi in aula la scelta quindi si è fondata sui due nominativi e alla fine è prevalso il nome di Lucia Annibali espressione della maggioranza un curriculum qualificato anche come membro della commissione giustizia per un ruolo così delicato come quello del difensore civico regionale chi ha proposto la candidatura di Lucia Annibali ha garantito la preventiva rimozione dell'incarico responsabile regionale del partito di Italia Viva quindi questo è elemento rassicurante non dovrebbero esserci quindi problematiche di questo tipo tutti gli altri profili di ipotetica incompatibilità sono stati sconfessati anche dall'istruttoria che è stata fatta nel corso dell'attività in commissione prevale senza dubbio il riconoscimento di una formazione professionale adeguata Lucia Annibali è un avvocato anche se non esercita prevale comunque anche l'impegno politico sul fronte della tutela dei diritti non soltanto per l'esperienza maturata in Parlamento ma anche per il vissuto di carattere personale io credo che Lucia Annibali possa essere senza problematica alcuna di conflitto di posizioni di carattere politico un ottimo difensore civico per la nostra regione A un anno dalla scomparsa dell'ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli si è tenuta lo scorso 11 gennaio a Palazzo del Pegaso la cerimonia di conferimento del premio a lui intitolato miglior tesi di laurea David Sassoli l'Europa le regioni e i cittadini il tema della prima edizione del riconoscimento rivolto a giovani laureati degli Atenei Toscani bandito nel 2022 dal Consiglio regionale della Toscana in attuazione della deliberazione dell'ufficio di presidenza d'intesa con la Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali il premio all'obiettivo di ricordare il pensiero e l'azione di Sassoli incrociando la sua memoria con le idee delle giovani generazioni toscane e con le riflessioni sul rapporto tra regioni ed Europa i vincitori sono Alice Campolmi laureata all'Università di Firenze prima classificata Filippo Bordoni laureato all'Università di Pisa secondo classificato e Mira Manini Tiguari dell'Università di Siena terza classificata sentiamo il commento del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è un'edizione che ha visto davvero una larga ampia importante partecipazione oggi è un anno che è venuto a mancare David Sassoli David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'Assemblea legislativa e questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa questa iniziativa nasce da tutti i componenti della Commissione che presiedo e che ringrazio ha sottolineato il Presidente della Commissione Politiche Europee Francesco Gazzetti Sì mi pare che sia davvero un momento bello è un momento che ci aiuta per ricordare David Sassoli ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ragazzi toscani che il Consiglio regionale attraverso la Commissione ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori e credo che anche il rapporto e li voglio ringraziare dei docenti che hanno composto la Commissione di Valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio Nella Commissione che ha scelto i vincitori c'era tra gli altri il Professor Massimiliano Montini dell'Università degli Studi di Siena Sono stati veramente degli ottimi lavori una buona partecipazione una buona occasione anche di collaborazione fra le Università Toscane quindi grazie alla Regione di aver promosso questa iniziativa che spero invoglierà i nostri giovani a scrivere e a lavorare più su questi temi dell'integrazione europea Infine sentiamo la disciplina normativa e anche l'applicazione poi nella prassi di queste misure normative è un tema molto attuale sia in Italia ma anche nel resto dell'Unione Europea e sono infatti grata appunto di questo premio proprio perché spero che questo tema possa essere messo in luce ecco grazie a tutti grazie a tutti